5 minuti nella Biblioteca Nazionale di Firenze, il maggiore istituto bibliografico del nostro paese. La biblioteca è aperta a tutti gli studiosi d'Italia e del mondo. Eccoci nella sala dei cataloghi, dove sono classificati 1.024.300 volumi, 1.500.000 opuscoli, 3.631 in Cunaboli, 23.400 manoscritti, 425.000 autografi custoditi dalla biblioteca. Per avere in lettura un'opera si riempie l'apposita scheda di richiesta e la si consegna al banco di distribuzione. Per mezzo della posta pneumatica la scheda è inoltrata ai magazzini. Un addetto va a ritirare dal reparto l'opera richiesta. Montacarichi elettrici portano al banco di distribuzione i volumi richiesti. Il richiedente ritira i libri e si reca nella sala di lettura aperta al pubblico. Altre numerose sale di consultazione sono riservate agli studiosi, che possono ritirare i volumi direttamente dagli scaffali. La grande biblioteca è ospitata fin dal 1935 in un nuovo apposito edificio solto tra l'Arno e Santa Croce.